Signora una domanda, cosa non farà mai fare sui figli? Eh sicuramente ognuno nel suo letto e poi niente videogiochi Niente videogiochi Davide ancora che scrivi che ti sto per inflexare No ma Samu ti chiama Nabbo Ah ma e perché hai chiamato tuo fratello Babbo? No Babbo, Nabbo, Nabbo è quando non sai ancora giocare bene a un gioco Sì lo sappiamo che ci sono tante cose che abbiamo detto che non avremmo fatto Però si può sempre correre ai ripari Ma sì cioè noi ad esempio abbiamo fatto un patto con i bro Noi stiamo imparando il loro linguaggio da generazione alfa incomprensibile E loro stanno capendo ad esempio che non si può scioppare No possono usare solo videogiochi adatti alla loro età E per un tempo che stabiliamo insieme E insieme a volte ci giochiamo anche e ci divertiamo pure Ma fai vedere il trick che ci sta facendo svoltare? Ah sì qui su tutto su videogiochi.it ci sono tutte le istruzioni per impostare il parental control Che aiuta ad esempio impostare i limiti di tempo, disabilitare la connessione internet E basta inserire il nome di un videogioco nel motore di ricerca per capire se adatta la loro età Così i bambini non ci considerano più dei nabbi ma dei veri pro NABBI Ma quale nabbi? Dammi qua che a Super Mario ci giocavo 30 anni fa Sono già passati 30 anni?